Esisteva anche in altri tempi, ma dal 2009, da quando c'è la crisi, il primo problema per le imprese italiane è diventato quello del recupero del credito. A certificarla un'indagine in campo assicurativo condotta sulle piccole e medie imprese italiane, che ha riunito addetti ai lavori e aziende, chiarendo scenari di mercato e i nuovi rischi legati al business. Uno dei rischi principali è il problema che le aziende hanno con il recupero dei crediti. Da quest'indagine che abbiamo sviluppato sulle imprese italiane, pensate che il problema eco-legale per il 74% è dovuto alle fatture insolute. Come da, siamo la prima compagnia specializzata nella tutela legale, per cui per i nostri clienti uno dei servizi principali è il recupero crediti. Il recupero crediti che diamo sotto forma anche di servizio, principalmente, perché facciamo un'attività di monitoraggio della situazione del debitore, facciamo le attività di phone collection e l'anno scorso abbiamo recuperato più di 20 milioni di euro. In questo momento, per le aziende, è fondamentale recuperare gli insoluti. Secondo la vostra esperienza, è un problema legato anche un po' alla crisi o è un problema che esisteva anche in altri tempi? Allora, esisteva anche in altri tempi, ma dal 2009 è diventato un problema veramente serio. Ecco, molte aziende purtroppo hanno chiuso e soprattutto anche per un problema di insolvenze. Essere partner oggi nostro vuol dire comunque avere una mano nella gestione ottimale dell'impresa. Allora, esisteva anche in altri tempi.